Ciao, sono Marco Doria e oggi ti racconterò la vita straordinaria di Sigmund Freud. Possiamo definirlo il papà nella psicanalisi moderna e colui che ha cambiato il modo di concepire la mente umana. Non siamo lontano infatti dall'epoca in cui i malati mentali venivano definiti come indemoniati ed erano piuttosto lasciati a sacerdoti e inquisitori piuttosto che a medici predisposti alla cura di malattie mentali. Freud, con la sua teoria dell'inconscio, è un approccio che possiamo definire psicoanalitico rivoluzionario, avvia quella che sarà una nuova comprensione delle dinamiche psicologiche e delle patologie psichiatriche. Ma è anche il primo che parla di sogni, lapsus e sessualità, di quel desiderio represso che sarebbe poi alla base del funzionamento della mente e dei nostri comportamenti. E nonostante fosse un ebreo perseguitato dai nazisti, un rifugiato politico e anche un grande consumatore di cocaina, è riuscito comunque a creare un modo diverso di intendere la mente umana attraverso la psicologia, influenzando generazioni e generazioni fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Vediamo come ha fatto. 1856. Sigmund Freud nasce a Freiberg in Moravia, che oggi è la parte orientale della Repubblica Cieca. All'epoca apparteneva all'impero austro-ungarico e aveva una popolazione composta da ciechi, tedeschi e altre minoranze etniche. Sigmund è il primo genito di Giacob e Amalia e fin da giovanissimo mostra subito una caratteristica comune alle persone che hanno creato imprese straordinarie, ovvero un bambino curiosissimo. Ecco, questa sua curiosità lo porterà a esplorare diverse discipline, tra cui la filosofia, la letteratura e la biologia. Nel 1873 la famiglia Freud non è che se la passa benissimo a livello economico, ma nonostante tutto decide di dare al figlio la migliore istruzione. E Freud prende quella che sarà una decisione fondamentale per la sua futura carriera, ovvero si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Vienna. Ma non era l'interesse per la professione medica che lo guidava, anzi, era piuttosto una fame di conoscenza degli enigmi del corpo umano, soprattutto della mente umana. E ragazzi, fermi tutti, mentre stiamo parlando di Freud, ma ti piacerebbe diventare un digital marketer e social media manager? Guarda, oggi puoi farlo in soli sei mesi, ti basta iscriverti a cama dove hai assistenza 7 su 7, un tutor a disposizione, 100% online e nessun obbligo di presenza. Quindi vai nel link in descrizione e iscriviti. Nel 1881 termina la sua formazione e così diventa dottore in medicina. Nel 1882, a 26 anni, incontra quello che sarà l'amore della sua vita e si fidanza con Martha Bernays. Nel 1884, quindi appena sposato, la prima cosa che gli viene in mente da fare è quella di andare a Parigi a studiare l'isteria. L'isteria colpiva prevalentemente le donne di buona società e nella visione ottocentesca veniva descritta in questo modo. Si manifesta con sintomi molto simili all'epilessia, paralisi degli arti, cecità momentanea, perdita di coscienza e capacità di parlare. Finito l'attacco segue spesso una fase emozionale molto intensa in cui il soggetto compie azioni imprevedibili e esprime con poche parole o gesti sentimenti molto profondi, in uno stato semi-allucinatorio. Sappiamo che queste sono anche le condizioni con cui vengono descritte appunto le persone possedute o spiritate. E proprio per questo Freud vuole comprendere meglio quale fosse il meccanismo mentale dietro a tutto questo. Non era possibile che soltanto uno stregone, un esorcista, un inquisitore poteva eliminare dal mondo, capire e comprendere cosa succedeva in quella mente. Nel 1886 Freud apre il suo studio privato di pratica a Vienna e si concentra al 100% sulla cura delle malattie nervose. Quindi mette focus e va all in sulla sua professione. Nel frattempo procede il suo matrimonio con Martha, da cui avrà sei figli. Non sappiamo molto del suo rapporto con la moglie. Tuttavia sappiamo però con certezza che Freud non superò mai il rapporto di dipendenza e morbosità affettiva che aveva con la madre e della gelosia nei confronti del padre. Questa condizione lo porterà chiaramente ad approfondire quelle che sono le dinamiche familiari in relazione dell'inconscio e alle pulsioni nei confronti dei genitori. E' il 1889. Vienna è un importante centro culturale e centro di ricerca scientifica. Gli ebrei in città, proprio per il fatto che si cominciava a sentire nell'aria quell'antisemitismo che cominciava a dare fastidio, erano determinati nel dimostrare che anche loro avevano diritto al loro posto nella società. E Freud non era da meno, infatti fu proprio in questo anno che sgomitando riuscì a farsi nominare professore ordinario di neuropatologia all'Università di Vienna, una posizione molto ambita e molto importante nella società viennese. E' il 1895. Freud ha 39 anni e diventa famoso. Perché pubblica studi sull'isteria, dopo aver lavorato al celeberrimo caso di Anna O., ovvero una paziente affetta da isteria ma curata con il metodo dell'ipnosi e della catarsi, ovvero la liberazione dei sintomi attraverso un flusso di emozioni e pensieri. Inizia così ufficialmente la sua carriera come pioniere della psicanalisi. In questa fase Freud elabora le intuizioni che formano il nucleo della psicanalisi, ovvero che occorre fare un'indagine accurata dei pensieri del paziente, esempio la sua interpretazione dei sogni, e che bisogna considerare anche quella che è la sua pulsione sessuale. Vedi ad esempio il complesso di Edipo che indica un insieme di desideri ambivalenti che il bambino ha nei confronti dei genitori. Combinando anche tutto con elementi che fanno parte dell'inconscio, come per esempio il superio, ovvero l'insieme di modelli comportamentali che una persona ha quando considera le cose giuste, sbagliate, buone o cattive, eccetera. Ecco quindi immaginiamoci anche che non doveva essere facile far digerire tutta questa serie di teorie a una società che fino a qualche anno prima ti buttava nel rogo anche per molto meno. Però Freud aveva ormai dalla sua i primi risultati. E nel 1899 Freud pubblica l'interpretazione dei sogni, una di quelle opere che rimarranno nella storia, è una delle opere più influenti di Freud. Sarà un altro punto di svolta nella sua carriera. È il 1900 e per far accettare ancora meglio le sue teorie della comunità scientifica fonda la Società Psicoanalitica di Vienna. Nel 1905 Freud pubblica tre saggi sulla teoria sessuale per la comprensione dell'infanzia e della sessualità, argomenti che in precedenza non potevano assolutamente essere trattati assieme o almeno non potevano essere trattati insieme in una maniera così esplicita. È il 1906. Sigmund Freud inizia la corrispondenza con Carl Gustav Jung, un altro importante psicoanalista. I due dapprima si trovarono anche sulla stessa linea di pensiero. Poi però Freud volle precisare che lui era comunque l'autorità assoluta e quindi Jung prese un po' le distanze dal suo pensiero, nonostante in molti lo consideravano un po' come se potesse essere il successore di Freud. È il 1914. Scoppia la grande guerra. Freud comincia a sperimentare delle grandi difficoltà. Quando dapprima andava tutto bene, quando dapprima la sua carriera era in crescita, ora si ritroverà a fronteggiare scarsità di risorse, dissidi sociali e dissidi politici. Nonostante tutto, nel 1919, in mezzo alle due guerre, Freud pubblica Al di là del principio del piacere, che parla dell'istinto di morte e del principio di nirvana. Nel 1923 Freud si ammala. Purtroppo gli viene diagnosticato un carcinoma alla bocca. Freud negli anni purtroppo subirà decine di operazioni, fino all'asportazione completa della mandibola, ma comunque continuerà a praticare psicoterapia anche stando in silenzio. Nel 1930 purtroppo muore la madre, Amalia, e come possiamo immaginare dall'attaccamento morboso che Freud aveva nei suoi confronti, quest'uomo ne soffrirà tantissimo. Il periodo non procede per il meglio e nel 1933 la libertà di pensiero che Freud aveva avuto fino a quel momento comincia a essere compromessa. Adolf Hitler sale al potere e il nome di Sigmund Freud entra nella lista degli autori di cui le opere devono essere distrutte. Nel 1938 l'Austria viene annessa alla Germania nazista. In quanto ebrei, Freud e la sua famiglia sono assolutamente in grave pericolo e quindi sono costretti alla fuga e all'esilio. Freud abbandona di fretta e furia quella che è la sua casa e la pratica ovviamente del suo mestiere a Vienna per cercare il rifugio a Londra e diventa ufficialmente un rifugiato politico. In tutto questo periodo purtroppo la corrispondenza privata di Freud è soggetta a controlli e restrizioni proprio da parte del regime. Significa che alcune informazioni significative sulla sua vita privata purtroppo le abbiamo perse. Lo sappiamo, Freud era un gran consumatore di cocaina, cosa che non ha mai tenuto nascosto. Aveva questi comportamenti particolari nei confronti della madre, nei confronti della moglie e nei confronti del padre. Purtroppo nel 1939 il suo cancro viene dichiarato inoperabile. E il 23 settembre 1939, all'età di 83 anni, Freud muore a Londra dove si era trasferito durante la sua fuga dall'Austria. L'eredità che abbiamo di Freud è profondamente radicata nella storia della psicologia e del pensiero umano. Le sue idee hanno influenzato innumerevoli campi tra cui psicologia clinica, psicoanalisi, letteratura e arte. E in questa eredità ci portiamo dietro però anche lo scetticismo. È stato sempre dibattuto il lavoro di Freud, soprattutto riguardo all'inconscio, alla validità terapeutica effettiva della psicanalisi. Ed era uno scetticismo che era condiviso dallo stesso Freud, sostenendo che la psicanalisi fosse una valida terapia che sarebbe stata però poi superata da nuove teorie della mente. Cosa abbiamo imparato da questa interessante storia di vita? Freud era un tipo che aveva un grande desiderio, un desiderio di comprendere l'incomprensibile. E come lo ha fatto? Lo ha fatto attraverso la scienza. Il suo punto di forza, penso che senza ombra di dubbio, sia stata la curiosità. Un elemento che possiamo ritrovare, un elemento comune a tante persone che hanno compiuto imprese straordinarie. Forse semplicemente dovremmo dare più ascolto a quella che è la nostra curiosità e lasciarci guidare proprio in vista di nuove scoperte. Se questa puntata ti è piaciuta, bene, iscriviti al canale, metti like e lascia un bellissimo commento. Alla prossima!